Cittadini, volontari, ma anche scuole e associazioni di Fontaniva coinvolti in un progetto sperimentale di rilancio, riqualificazione e sistemazione delle aiuole rotatorie a re e gioco dislocate nel territorio comunale. Al via la campagna adotta un'area verde, un'adozione in piena regola promossa dall'assessore ai lavori pubblici Alberto Trento, secondo cui gli interessati potranno, entro il prossimo 15 marzo, presentare domanda al comune, indicando l'area prescelta, le modalità di intervento, ma anche l'individuazione e l'utilizzo di spazi come laboratori di botanica, giardinaggio, educazione al corretto uso del verde, andando se necessario a segnalare situazioni di eventuale pericolo alle autorità competenti. Un modo per rendere concreto il senso del bene comune, facendo sì che i principali fautori e sostenitori della cura della bellezza e del rispetto della cosa pubblica siano proprio i cittadini.